Nicola Salievi, un anno importante l'anno della tua riconferma. Sì, l'anno della riconferma. Ho fatto l'anno scorso un buonissimo campionato, giocando quasi sempre, e quest'anno mi sono ripetuto facendo bene. Facendo anche qualcosa di più, il tuo gol tra i professionisti. Trovando il mio primo gol tra i professionisti è stato anche un gol molto importante perché ci ha aiutato ad andare ai play-off ed è stato anche il primo, quindi un'emozione bellissima. A fine campionato il mister ha speso parole d'elogio per te, dicendo che quella di Nicola sia una delle realtà più belle di questa squadra. Sì, mi ha fatto enormemente piacere, sono trovato molto bene col mister, quindi ho preso i suoi complimenti in maniera positiva. Che voto dai alla stagione della squadra? La stagione della squadra io direi comunque un sette pieno perché abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo nostro che erano i play-off. li abbiamo raggiunti, è vero, con alti e bassi, però una volta raggiunti abbiamo anche dimostrato contro la Cremonese di essere una squadra che poteva giocarsela fino alla fine, ma che un po' per demerito nostro, un po' anche per sfortuna, non è stato così.